28 anni fa la morte è violenta drammatica di raul gardini imprenditore visionario che segnò un bel pezzo della storia industriale finanziaria italiana della seconda metà del secolo scorso un gardini popolarissimo anche per quella sfida che lanciò nel 1992 nella coppa america con il suo moro di venezia questa sera ne parleremo con paul caillard con collegato da san francisco che del moro di venezia era lo skipper con marco fortis stretto collaboratore di gardini che ci racconterà questo suo essere questo suo guardare lontano e poi con pier camillo davigo all'epoca magistrato che faceva parte del pool di mani pulite protagonista anche lui di quella stagione ma dall'altra parte poi ricostruiremo tutta tangentopoli un lungo racconto drammatico di quella stagione che segnò anche la fine della prima repubblica ma intanto la vignetta di mauro biani un raul gardini da solo su una barca sulla vela il simbolo del moro di venezia le spade incrociate del corsaro il suo soprannome un raul gardini perso tra pochi minuti ad atlantide la linea a marco fortis che direttore vicepresidente della fondazione edison ma soprattutto è stato un collaboratore di raul gardini è una persona che insomma lo conosceva molto bene e e forse dopo la morte di gardini è riuscito anche a diciamo ricostruire il il suo percorso meglio di quando forse non lo aveva seguito in tempo reale intanto le do la buonasera fortis buonasera buonasera senta fortis le vorrei chiedere subito vorrei chiedere subito anche a lei che ricordo ha di raul gardini cioè la prima cosa che le viene in mente ricordo di tante serate che abbiamo trascorso lavorando lavorando ai discorsi ai documenti ai materiali che si preparava per dialogare anche con la commissione europea con istituzioni internazionali a proposito dell'agricoltura lui era viaggi in aereo anche lunghissimi sì senta lui era un europeista convinto quando ancora diciamo gli europeisti non erano poi tantissimi e non tanti credevano che sarebbe stata una risorsa che poteva essere una risorsa ma lui aveva diciamo una testa molto europea è vero è così è vero questo origina dal fatto che chi lavorava nell'agricoltura aveva potuto partecipare alla nascita dell'europa l'europa è nata sì col carbone con l'acciaio ma soprattutto con la politica agricola comune e lavorando ai regolamenti europei delle materie prime agricole lavorando a bruxelles gardini si era fatto una cultura dell'europa non solo dal punto di vista degli ideali dei valori dei padri fondatori ma anche delle tecnicalità dell'europa ma ragionava in termini di monete verdi e aveva immaginato e sperava che nascesse l'euro vent'anni prima rispetto a quando è nato veramente senta fortis e lui si è fatto un sacco di nemici ma se li è fatti per una questione di carattere o perché diciamo voleva procedere lungo un percorso che inevitabilmente lo avrebbe portato a scontrarsi con quello che era il sistema in quel momento c'erano certamente dei conflitti con delle lobby molto potenti quando ormai l'etanolo sembrava cosa fatta il commissario l'agricoltura europeo andrissen venne in italia alla festa della soia dove c'erano decine di migliaia di agricoltori che erano venuti ad ascoltare gardini ed andrissen andrissen annunciò che l'etanolo si sarebbe fatto ma poi nel giro di pochi mesi la lobby petrolifera europea bloccò quel progetto però al di là di questo forse è una cosa che molti italiani soprattutto giovani non sanno e che negli anni 80 noi noi italiani possedevamo la apple della bioeconomia e non lo sappiamo nemmeno di averla avuto era un gruppo da 35 mila miliardi di lire di fatturato con oltre 100 mila addetti un gruppo che aveva 500 impianti sparsi nel mondo e gardini aveva progettato di costruire le plastiche biodegradabili aveva varato una strategia per la qualità della vita era molto attento all'ambiente ricordo che invitò per mettere alacchico a testa a ravenna a pranzo un giorno per discutere su come risanare porto marghera e gli impianti chimici di venezia a quell'epoca questi erano i massimi esponenti della diciamo dell'ecologia dell'ambientalismo in italia e lui aveva questa sensibilità di fare cose nuove di fare cose innovative non solo nel campo della dell'agroindustria ma anche e soprattutto nel campo negli sterminati campi che gli offrirono diciamo gli acquisti di società sia nel settore dell'amido e dei suoi derivati soprattutto la montedison la montedison schiuse le porte per una visione innovativa della chimica e soprattutto per una sensibilità dell'ambiente che era rara per gli imprenditori dell'epoca senta io vorrei che lei mi aiutasse naturalmente in maniera semplice in modo che tutti riescano a capire a ricostruire un po il percorso la che che fece che aveva fatto gardini da quando nel 79 dopo l'incidente aereo nel quale era era morto il il fondatore diciamo della del gruppo ferruzzi serafino le redini del di quel gruppo agroalimentare erano passate a lui fino a quel momento diciamo che la ferruzzi era già una grande realtà dal punto di vista agroalimentare industriale ma serafino ferruzzi era un uomo di basso profilo no per cui diciamo era forse più all'estero aveva diciamo una un nome ed era conosciuta più all'estero di quanto non lo fosse forse in italia perché quella era una scelta diciamo che aveva fatto il suo fondatore poi gardini prende in mano le redini del gruppo ferruzzi e lo fa diventare una realtà non soltanto industriale agroalimentare ma finanziaria e così perché in quel momento la borsa lo consentiva sì certamente serafino ferruzzi era stato un grandissimo protagonista basso profilo ma un uomo straordinario che fondò un gruppo mondiale nel trading che competeva con i giganti americani ecco quando serafino ferruzzi arrivava la borsa di chicago tutti si zittivano perché arrivava un grande protagonista raul gardini portò questa dimensione internazionale del gruppo ferruzzi dal trading dentro l'industria in maniera molto decisa furono acquistati nel giro di pochi anni numerose società europee internazionali americane leader nell'amido nella lavorazione dei semi oleosi negli oli da tavola nelle spezie nei mangimi e tutto questo portò alla creazione di un gruppo di dimensioni straordinarie un gruppo che voglio dire gli italiani hanno perso oggi molti si spaventano quando viene comprato magari qualche marchio del lusso italiano ecco pensate che noi abbiamo perso un gruppo che era secondo solo la fiat e che aveva posto le basi per una frontiera straordinaria cioè io paragonerei tranquillamente raul gardini a dei protagonisti come steve jobs come bill gates cioè veramente qualcuno che aveva aperto una frontiera che poi purtroppo non è stata sfruttata dal nostro paese e gli imprenditori innovatori in paesi come gli stati uniti vengono facilitati vengono stimolati ad andare avanti a crescere ad acquisire dimensioni mondiali purtroppo nel nostro paese gardini è stato ostacolato sotto tutti i profili fortis diciamo per quanto lui amasse la vela il mare eccetera era un uomo con i piedi per terra io le faccio una domanda e vorrei una risposta sincera possibile in questa sua diciamo visione di espansione anche industriale che lui non si rendesse conto che in quel momento in quella stagione espandersi in quel modo la scalata la montedison il tentativo di appropriarsi di enimont cioè della di enichem più montesimo per fare un grande polo chimico che insomma avrebbe sfidato tutti i poteri che c'erano in un polo chimico privato che c'erano in italia tutto questo non non avesse un prezzo da pagare cioè che non ci fosse un prezzo da pagare alla politica è possibile che non se ne rendesse conto un uomo così diciamo attento svelto capace di di rendersi conto di quello che aveva intorno ma io credo che gardini fosse un uomo così convinto dei suoi progetti da non aver paura di affrontare questo rischio lui in fondo ragionava a bruxelles e a chicago poi quando si è dovuto diciamo progettare questa possibile soluzione di avere una società italiana nella chimica di base fondendo la chimica di base cioè vale a dire le plastiche i fertilizzanti della montedison con quelli della dell'enichem intravide un buon progetto per il paese e quindi si fidò anche dei contatti che aveva avuto con le massime istituzioni italiane che avevano anche garantito uno sgravio fiscale per poter realizzare questa fusione e poi però si sentì sicuramente tradito quando si accorse che invece di essere governata come una società che stava sul mercato mondiale l'enimont era ancora governata con la logica dei partiti che volevano nominare i dirigenti della società tutto questo certamente fu per gardini un grosso stress perché ripeto fino al momento in cui decise non tanto di scalare la montedison ma di realizzare questo accordo questa joint venture dell'enimont gardini aveva solo ragionato in termini internazionali di mercato e non aveva mai avuto a che spartire con la politica senta le devo fare un'ultima domanda e cioè lei ha vissuto anche i giorni diciamo che hanno preceduto questo gesto drammatico col quale si è tolto la vita lui aveva la consapevolezza che sarebbe stato arrestato da un momento all'altro io non ho non ho vissuto gli ultimi giorni di gardini con lui però certamente seguivo le vicende del gruppo ferruzzi montedison molto da vicino perché un gruppo in cui io mi sono formato anche come economista d'impresa e certamente si avvertiva tutto il dramma di una situazione che era degenerata non per una consuetudine del gruppo ferruzzi montedison delle famiglie ferruzzi gardini nella veri rapporti con la politica ma nel tanti nel tentativo probabilmente disperato di uscire dalla morsa che la politica aveva stretto attorno al gruppo paradossalmente io direi che le vicende finali del gruppo ferruzzi montedison sono finite in questo modo non per cercare un business con lo stato con il sistema pubblico ma per uscire da un abbraccio che impediva al gruppo ferruzzi montedison di essere un gruppo privato di stare sul mercato come tutti i gruppi privati la ringrazio grazie grazie fortis di di essere stato con noi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti